Buonasera signore e signori, sono ESC88, benvenuti con l'episodio 0, l'episodio numero 0 per la seconda volta, dato che... Yes, I push... La seconda volta che lo registro, l'episodio 0, 1 di Pokémon di nuovo, ovviamente Spero che questa volta di farcela, Bloody Platinum 2 Il cane ovviamente si rimette ad abbagliare, ho appena finito di dirgli di... Roy, bah si Roy, di non abbagliare, ma stranamente si rimette ad abbagliare Allora, avevamo già iniziato una volta una specie di guida a Pokémon Bloody Platinum Ma poi era morta la ROM, c'eravano stati dei problemi e quindi ovviamente non ho potuto proseguire Adesso ho fatto il cambio, ho resettato il PC, adesso c'è SET e tutto il resto su Windows Non ho più le battery, insomma la... come cavolo si chiama? La memoria, i salvataggi, i saves di... La Nazlook Challenge di Platinum E allora ha detto, vabbè, riprendiamo da... come si dice... da Pokémon Bloody Platinum Tanto vedo che qui corre molto velocemente Fa abbastanza... bene Ehm... ok... non mi ricordo più i tasti Ehm... fammi vedere un secondo Ehm... se l'ho premuti... ok... no, non voglio slow fast La cornice, questa va bene, ok... e quindi sarà una specie di speedrun molto veloce Spero di farla in concomitanza con un'altra H-ROM Che ho trovata quella di nero 2, bianco 2 Spero che anche quella, insomma, vi piaccia e... ecco... spero che si possa fare Il rinizio è sempre come tutti i Pokémon... ovviamente Platinum, Perle e Diamante Solo che questo è un Gigo, si chiami, non mi ricordo Era uno delle Lega Pokémon Se non mi... se non mi sbaglio, quello dei Pokémon di tipo fuoco Però ecco, eh... si va bene, ci farà sempre la multa, bla 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 Sarà ovviamente molto più difficile Non so se ve lo ricordavate o per i nuovi iscritti Che magari si sono iscritti... appunto adesso Se no non erano nuovi iscritti Ehm... è una ROM, un H-ROM Una tra le più difficili, penso che... che esistano Almeno sul mondo dei Pokémon Ehm... perché appunto... gli allenatori Specialmente capo palestra e la Lega Pokémon Ci saranno veramente dei boss con dei Pokémon a livello altissimo Già dall'inizio, insomma Tra l'altro il Professor Rock, quello Ehm... mi fa male la... ah... che cavolo Non lo so, mi sono toccato in testa e mi sono fatto... cioè ho del dolore Comunque sia Ehm... spero che questa H-ROM Ecco, questa di nuovo Walkthrough vi possa piacere di nuovo Ehm... come vi era piaciuta una volta Anzi, se non di più Go... open the... the box Ok, possiamo... certo che uno che si chiama... Ehm... si, se mi fai vedere Bloody 2 Allora, possiamo sciagliere Sciagliere Chi sciagliere? Chi sciagliere? Chimchar? Mi sembra che l'avevamo preso all'ultima volta Quasi quasi mi prenderei... Piplup Guarda, così a caso Boh, vabbè Piplup non è male Penso Poi mi piaceva molto Un pinguino, vabbè Ehm... quindi possiamo credo anche direttamente sfidare subito il nostro rivale Ehm... intanto Black Duny mi manda un messaggio con... Allo Nando San Vito Vuole... vuole giocare Faremo oramai Finiamo questa partita Ah... cavolo Ehm... sin da qui... quindi l'altro era Typelusion Ehm... cioè era sin da qui... non lo so Boh, vabbè, noi continuiamo E non male con Totodile Io pensavo che era Piplup E' vero che è molto che non ti rigioco Però, insomma, va bene lo stesso Quindi... una battaglia tra vecchie generazioni Ma la vince Totodile Sale a livello che sei impara Water Gun Ovvero Pistolacqua Il gioco è tutto in inglese Ci sono credo che anche... Un tipo delle patch Ehm... per avere le versioni in... In italiano, ecco, sottotitolate O... non so cos'altro Run in shows Ehm... però ecco Mh... sinceramente Credo che magari mettere a scomb... cioè Mettermi a scombinare questo gioco Possa creare dei problemi Ehm... e quindi preferisco continuare così Allora, adesso dobbiamo andare verso il lago Lago... lago... lago verità Lapo verità Trust me Ok, non mi interessa Qua si troverà... Chi è questo? The Flowing Time Intanto rispondo un secondo a... Black Danny Arrivo Finisco di registrare Sei in live Ok Ehm... Facciamo passare Trunks e Super Saiyan Di... Secondo livello, si? Ehm... Manda un messaggio con una scritta AA On WhatsApp Ok Ehm... Questo è il lago dove possiamo trovare Dei Pokémon leggendari Eccetera eccetera Ok Ok Quindi Andiamo direttamente A Sabbia Fine Mi ricordo anche I nomi Passando sul percorso 201 Ehm... Mi ricordo che si trovavano anche Dei Pokémon abbastanza Faidi Per qua Scherzo Forse soltanto Bidoof Però ecco Ehm... Andando molto più avanti Con il gioco Sicuramente si troveranno Dei Pokémon Di qualsiasi generazione Ehm... I Pokémon Che tipo si dovevano evolvere Per scambio Si evolvono 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 L'avevo detto bene Si evolvono Ehm... Tipo tramite livello Ehm... C'era Clampert Che in un tail Si evolve soltanto Con la pistola Con la pietra idrica Ora perché stavo pensando Che a questo Graulit Faccia di cazzo Volevo la tua esperienza Usa Roar Se entri Beh... Graulit Non sarebbe male Speravo di Di fare tipo Un team Mega Iperforte Magari tipo Una Undur Mi sarebbe Bello Mi piace Una Undur Guarda Non sarebbe male Dawn Oh there you Please come with me The professor Wait Ok non me ne frega niente Esce sempre il nostro collega Che se ne va Scappa Ehm... Quindi entriamo all'interno del laboratorio Del professore Ho messo la velocità del testo La più alta possibile Perché altrimenti Ci si sta Fino a doma all'altro Non voglio soprannominare Ehm... Totodile E quindi possiamo continuare a premere Incostantemente A Perché appunto È per accettare tutto Luciderà Eh... Questa specie di Reguardo Questa sfida Ci regalerà il Pokédex Dopodiché Dawn All'uscita Ci regalerà anche le Pokéball E poi potremmo Tra virgolette Iniziare la nostra Ehm... La nostra Deh... Avventura ufficiale Eccolo qua Rowan I have something good here You should take this as well Obtain the TM27 Che è Return Ritorno Appunto Potremmo insegnarla a Totodile Come al solito Vi dico Insegnatela magari A un... Al Pokémon Se avete voglia Insomma di tenerlo Al Pokémon Che... Lo starter Perché comunque sia Quello che è un po' più forte A meno che Non siate dei disastri O non lo volete utilizzare O comunque sia Ci fate più affidamento Nella vostra squadra Diciamo che lo starter Di solito È a quello Comunque sia La parte Uno Termina qua La infermiera Joy Ha dei capelli Fluo Proprio Ehm... Quindi non possiamo ancora Catturare niente L'unica cosa Da fare a Sangement Town È andare qua giù in fondo E recuperare uno strumento Ehm... Che è un antidoto Bloody Chew Non ci... È la prima volta Che non ci chiamiamo Ash in questa... Ah no Anche Klaus Ci siamo chiamati No è la prima... È la seconda volta Allora che non ci chiamiamo Ash in questo... In questo gameplay In questo walkthrough Ehm... Quindi la prima parte Termina qua Spero che vi sia piaciuta Come al solito Vi dico Votate, commentate Iscrivetevi Ehm... Tanto ci metterà un po' Quindi posso continuare Con i saluti Ehm... Appena avrò Qualche minuto di tempo Tenterò di registrare Anche l'HROM Di Pokémon Nero 2 E Bianco 2 Che anche quella Devrebbe essere divertente E sto aspettando Come al solito Sempre Ehm... Di ricevere notizie Per quanto riguarda Le HROM Di... O comunque sia Le ROM Di Pokémon X e Y Che al momento Non esistono E non ci sono Come al solito Vi dico Votate, commentate Iscrivetevi Un ciao Dash88 Ciao ragazzi